Buonasera a tutti ragazzi, questa sera io e Massimo Mancarelli che siamo liberi e abbiamo voglia di fresco si va praticamente a fare un giretto in perlustrazione niente di particolare però andremo al buio in delle zone abbastanza tetre, abbastanza paurose da percorrersi di notte ma noi non ci abbiamo problemi poi magari farò anche un po' di video con una telecamerina anche di quelle che si attaccano il casco e vi farò vedere poi questa perlustrazione, questa passeggiata notturna tanto per passare un pochino di tempo a vedere qualcosa di paranormale speriamo, ok? Buonasera a tutti, un abbraccio, ciao da Stefano